Tir e camion potrebbero tornare a breve ad attraversare il viadotto Puleto sotto sequestro per rischio collasso dallo scorso 16 gennaio, ad annunciarlo il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi nel corso dell'incontro con i sindaci della Valtiberina e Aretina e con i primi cittadini degli altri comuni interessati da questo blocco. Il dottor Rossi ci ha fatto presente che in settimana, nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare dal perito dall'ingegner Modena il parere definitivo rispetto alla possibilità di iniziare i lavori. Se ciò è, speriamo che sia in tempi brevi come ci è stato annunciato, possono partire i lavori di Anas che come sappiamo sono dieci giorni lavorativi per fare la messa in sicurezza del viadotto Puleto. Per le condizioni in cui versa il viadotto Puleto, la procura di Arezzo ha iscritto nel registro degli indagati cinque funzionari Anas accusati di omessa manutenzione. I loro difensori avevano chiesto l'incidente probatorio che avrà valore di prova in caso di processo. Il GIP Pier Giorgio Ponticelli ha così affidato l'incarico ad un esperto, il professor Claudio Modena. Spetterà adesso al consulente capire se ci sia stata o meno omessa manutenzione da parte dell'azienda. Ma intanto a breve potrebbero essere ultimati i lavori di manutenzione al momento congelati proprio per non inquinare il lavoro del perito. Sa che però una volta conclusi tutti i sopralluoghi la procura ha la possibilità eventualmente salve imprevisti di dare via i lavori di Anas e quindi accelerare quello che ormai è tanto tempo che è fermo. Rimettere il Puleto in una parziale sicurezza per poter garantire perlomeno di passare su una corsia per ogni senso di marcia. Grazie. 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 Grazie.